Adesso vediamo Michael Strang, che qui è una bellissima immagine che possiamo prendere da qua, è fantastico, lo ritroveremo poi in serata. Anche voi sicuramente siete i nostri ospiti speciali di questa sera, quindi vi chiedo di giocare un po' con me. Vi ho chiesto poco fa di mandarmi una selfie di voi stessi con l'espressione che avreste se scopriste di essere appena stati nominati a un Oscar e avete risposto con queste bellissime foto. Penso che la mia preferita per adesso sia Dan Stevens, veramente è fantastico. è bellissimo, sono lì assieme tutti e due con il treno lì indietro.